Grazie 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 Baile Grazie Buen, pues algo nuevo, divertido también en este tipo de baile de exibilección y ebis maig serio vamos a ir acabando eh realmente baile baile nos queda uno a la despedida Mientras ellos se acaban, Mientras ellos se acabar te diré que ahora en cuanto acabemos anche un espectacolo molto molto perché è dentro del futuro anche dal centro culturale di un'altra parte dei ballesteri con i baios regionali e i canti e anche lo facendo molto bene osea che vedete qui che vanno a disfrutar molto come dicevamo con lo che è il ultimo dei baioli e questo che oggi si fanno una specie di mix e si mezclano diversi estilos musicali e ora hanno misclato per questo tema un passo doble e un chachachà delle cose della modernità che diciamo bene, poi dicendo che tutti stanno qui il gruppo Torrente nuovamente va a salire al escenario per faremo questo passo doble chachà e così finalizzare lo che è questa esibizione di baioli fino al final es applausi per loro grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti